Fere, quest'oggi passeremo alla storia, sai perché? Perché? Perché ho preparato un nuovo piano che è migliore del piano ciuff e si chiama piano airplane Non ti è bastato il fallimento dell'altra volta, no? No, 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 questa volta ci riusciamo Sì, ragazzi, come va? Io sono Fere, Niki E sono te, perché stai dicendo che mi è Ratticatti Ebbene, sì, siamo qui di nuovo su Ratticatti con un nuovo piano di Steph Questa non è una bella cosa, ma ci proviamo Sì, ma prima io vorrei parlare di una cosa, Fere, di quello che hai sopra la testa Mi sono preparata alla battaglia, scusa, guardami di lato, ha un cappello da gladiatore questo Mi sono preparata al suo nuovo piano, che siccome sarà un fallimento, io almeno mi sono un attimino armata Ah, certo, certo, certo Io invece mi sono vestito così, guardate quanto sono carino adesso Mi sono vestito da gentleman Perché, Fere, sono carinissimo Perché non ci si veste così quando si va in battaglia, Steph Ma non è vero Non ci si veste così Sono troppo bellino Poi tu non hai preso una cosa, che io ho preso Però non te l'ho detto prima di inserire il video Perché altrimenti l'avresti preso anche tu Mi stai guardando? Sì Perché devi fare queste cose, Steph? Perché stai ballando la breakdance adesso? Fere, non ti piace come ballo? Aspetta, guardami meglio Cari topolini, vi salveremo Vi salverò, vi porterò via da questa tane, da questo essere Ve lo prometto topolini, ve lo prometto Fando alle ciance ferie iniziamo il nostro nuovo piano Prima che i nostri figli eletti muoiano di fame diventi tutto inutile O scappino Allora, mettiamo l'altra telecamera Forza, 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 forza Ok Il nuovo piano, come avevo già detto, si chiama Operazione Airplane Come potete vedere Perché? Perché nessuno sa che in questo gioco ci sono anche gli aerei E quindi Steph ha pensato È un po' diverso da aerei Perché da quello che so io Ahà Tu ti puoi trasformare in un vero e proprio aereo Cioè ti trasformi Davvero? Sì, è una cosa un po' strana Ah, ok Vabbè, io ero rimasto al fatto che c'è un aeroplano E che cosa direte? A che cosa vi serve un aeroplano? Beh, se il trenino ha fallito Proviamo con un aereo Assolutamente sì Come funziona l'operazione? Il primo step Siamo io e Ferre come sempre Ci prendiamo due bombolette spray Perché abbiamo bisogno di volare Abbiamo bisogno di volare dove? Abbiamo bisogno di volare sopra il mobile Dove si trova l'aereo? Guardate quanto è bello il mio aereo È la cosa più triste che io abbia mai disegnato Credo Ma non sapevo come si fa Perché mi hai disegnato qualcosa di felice e bello? In ogni caso noi saliamo lì sopra Saliamo nell'aereo E poi step 3 Voliamo Quindi nulla di più semplice Secondo me ce la possiamo fare E questa volta Ferre secondo me ci riusciamo Non so se riusciremo a guidare l'aereo Ma secondo me almeno riusciamo a salirci sopra Speriamo È già un qualcosa di utile Bomboletta spray per me presa Adesso andiamo a cercare quella di Ferre E stiamo attenti Ecco qua c'è già il gatto che ci spara Ferre è Vezico Zago Vezico Zago che ci vuole subito rovinare tutti i piani Vattene Tutto ok Ferre? Sì mi sto arrampicando sui muri per cercare di schivare Perfetto No step non fa Non fa Ma perché prende sempre a te? Perché tu te ne vai e me lo lasci dietro Cioè lo puoi capire Armi e uova infinite Cioè non lo puoi schivare Non puoi Ferre in effetti c'è da questa strada che fa decisamente comodo Ci porta direttamente nella zona dove vogliamo andare Allora vedi qua c'è l'altra bomboletta Ok Quindi la prima parte del nostro piano è fatta Adesso dobbiamo andare nell'altra stanza Passiamo tutto da qua sotto Oh bello bello questi passaggi Passiamo da questo tunnelino qua Ok E l'aeroplano dovrebbe essere lì su Seguimi Su dove? È sopra la casetta L'avevo già individuato Ferre Oh sì lo vedo come? Suppongo di sì Allora io non ci posso fare nulla Ferre Aspetta fai vedere Ferre? Ti sei trasformato in un aeroplano? Ferre? Te l'ho detto io che ti trasformavi Te l'ho detto Tu non ci credevi Fai vedere Oh mio Ferre è molto strano Stef sei bellissimo Ma non le vedi le gambe? Sì te l'ho detto Ti trasformi E avevo ragione Ti trasformi Sì ma sono le gambe di un essere umano Tu diventi un aeroplano con le gambe Esatto Stef che ti devo dire Ma è strano Posso dirlo che è strano sì? Sì è strano Però puoi volare Ma poi a che serve? No non vola Come non vola? No Oh mio dio Vedi che c'ha le gambe Oh mio dio Se tu salti e non voli E hai semplicemente la tua classica bomboletta Per volare Ma è classica Quindi a che serve? Allora è un aereo un po' strano Perché noi tecnicamente volevamo volare con questo aereo Non trasformarci nell'aereo e non poter Ferre il piano è già fallito Pronto Stef? Prontissimo Arriva 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 Vola Allora cerchiamo di buttare dentro anche le palline Così ci vediamo anche quelle Buttale Buttale Va bene Va bene Questa è quasi un si può fare comunque Sì sì Ok qualcuna l'ho buttata dentro Aspetta che continuo Anche io Queste due le ho incastrate Dai Dai No 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 Che succede? Sono caduto Hai buggato tutto? No sono caduto Allora sei pronto? No Voglio vedere se si vede Non ci sono Ferre E non posso più Come non puoi Ah c'è la tua scopa qui Eh sì Ma Stef Perché l'hai tolta? È andata così Ferre È andata così Adesso Dammi qualche Secondo Minuto Barra Dieci anni E torno da te Ti aspetto dentro Sono andata a prendere una nuova bomboletta Qua c'è proprio La collezione di bombolette La riserva E il gatto comunque è qua sotto Che cerca di spararci tutto il tempo Ciao gatto Fai schifo Fai schifo Non salta sopra il tavolo Quindi ce ne stiamo Guarda Niente mi guarda Sì che ci sono Però Aspetta A te non ti vedo Ciao Ferre Allora mi devi togliere Mi aiuti ecco No ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Hai visto? Carino Si può stare dentro E comunque si vedono anche tutte le palle Che butti dentro Quindi cioè Rimane proprio realista Puoi giocare a calcio Guarda Sì sì Te ne stai qui dentro Il gatto non ti può prendere Fantastico Moriranno i figli Esatto C'è quel particolare da considerare Però Però quello basta stare nella tua tana Allora no Se ci pensi non è tanto utile Vabbè Usciamo fuori Allora io ho ancora qualche cosettina da provare Vai 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 Ce l'avevano chiesto i consolini Di utilizzare le macchine E di prendere le rampe a massima velocità Uh bello questo Quindi io vado a prendermi il monster truck Ecco qua E provo a prendere le rampe Allora mi sa che io rimango qui sopra Ok A distrarre il gatto Tanto la rampa è qui di fronte Quindi io ti vedo lo stesso Va bene Ok Ok La prendi solo tu Ok Allora Rampa è lì Ok Ti vedo Massima Mi dimostri a salire qui sopra Fare Ti ho visto rotolare in tutti i modi possibili Stef Fare cos'è successo Ma hai preso il volo con la Ah perché attacchi la bomboletta sopra Ah E quindi prendi il volo Rifallo Rifallo Allora Aspetta che ho bisogno di andare a ricaricare la bomboletta Perché l'ho praticamente consumata tutta Ok fare Sono pronto Ti aspetto Stef Sono pronto Massimo Di nuovo sei volato Non ti vedo neanche Ma dove sei finito? Allora Sono finito nella zona del divano Allora Adesso la prendo senza usare il turbo Anzi ne uso giusto uno per darmi un po' di velocità Ciao Oh mio dio Sono salito qui sopra Perfetto E infatti io poi posso prendere anche questa come rampa E ributtarmi giù Carino Carino Tante cose belline da fare con le macchine Fere I vestiti vanno anche sul gatto Sono un gatto gentleman adesso Io pensavo che li dovessi comprare Se per il gatto che per il topo Oh mio dio Bellissimo No Strabello Questa era una cosa interessantissima Ci restano due cose da provare Dopodichè per ora Tutto quello che è disponibile in questa mappa Lo abbiamo fatto Allora C'è un achievement di fare 25 punti Nel videogioco che avevo provato la scorsa volta Eh questo si ma lì Quindi adesso vado un attimino ad impazzire Ok Dopodichè ci sono due armi da utilizzare Di cui una ti ammazza e quindi fa finire la partita Quindi la teniamo come ultimissima cosa E ti inizio a dire che è la TNT Quindi fare Diciamo che dovrai testare la TNT Ok vai Allora vado Vai Steph Ok ho sbagliato il tasto Bravissimo Ho saltato nel gioco Sì ti ho notato Steph vai Sono morto Mi vedi tu giocare Sì Purtroppo sì Steph Diciamo che non è un bel vedere vero Esatto Ok vado Uop Uop Fri è difficile È un notato È proprio difficile questo gioco Dai che ci devo riuscire Forza Uno Concentrati Concentrati Steph su Crediamo tutti in te Più o meno Vai Mi sta arrabbiando Vado Lo so Lo so Uno Vado Spacco tutto Ho detto uno Quindi uno Due Ok Secondo me devi sempre saltare Tenere un ritmo nel salto Sì sì Capito Salta sempre Adesso lascio provare Uno Ferre No non lo voglio fare No no provaci Devi capire quanto Quanto l'odio Che no Riesci a saltarci sopra No ho perso la bomboletta La sto riprendendo Aspetta ora vado Vediamo se Ferre riesce a fare di meglio E se sono io che non sono in grado di giocare a Ratman Ok 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 Ero io il problema Perfetto Perfetto Bene così Mi fa molto piacere vedere Mi dispiace Steph Ho fatto anche l'achievement Che tu non sei riuscito a completare Se vuoi continuo quasi tutto il giorno Che dici Ti batto proprio In modo schiacciante Che dici Steph Che sto sperando Che ti cada un fulmine in testa In questo momento Io te l'ho detto Devi tenere un ritmo L'avevo capito Sto tenendo il mio ritmo E guarda come vado Non ti sopporto 75 Oh puoi fare anche 75 Due achievement Penso che puoi arrivare anche a 100 Eccetera eccetera Non accetto Non accetto Allora Ormai Ma che problemi C'ho Non lo so Non lo so Ma è il tasto Non mi va con Hai rotto il gioco Guarda Vedi che neanche riparte Fai schifo e basta Ok Comunque Allora Ti devo dire una cosa I due topolini stanno per morire Se vuoi provare la TNT è il momento No 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 Non mi interessa Aspetta Ci devo riuscire 1 2 3 Basta Steph Basta dai Basta Fere Proviamo la TNT Vai Stai ferma Ok Dove sei? Qui dietro di te Qua Vai Tieni Fere Non sono morta Tieni Adesso si Tieni Fere Tieni Ti stai divertendo adesso Fere Eh Ti stai divertendo È colpa mia Steph Se non riesci a fare le cose Ultima cosa da provare Fere Ed è davvero interessante Ok Perché è una doppia cosa La prima cosa È proprio utilizzare Diciamo Questo upgrade Per provarlo E sono i trampoli Si hanno messo i trampoli Per saltare con il gatto E dovrebbero essere qui in questa mappa Ma ci sono anche nell'altra mappa In ogni caso Però ho scelto di provarli in questa mappa Perché voglio provare un'altra cosa Allora Fere Sai come si usano? Salti e basta Ah te li metti in automatico Si Salti e basta Bong Bong A quanto pare non si scaricano Vero? Bong No Sono infiniti Come le altre Non è come gli altri oggetti Questi non si scaricano Allora Ti faccio una domanda Dimmi Ok Cosa succede se il gatto Cosa succede Se il gatto Cade in acqua Fere Muore I gatti odiano l'acqua E quindi Il topo può vincere in questa mappa Se il gatto per sbaglio Cade in acqua Penso di sì È strano Nell'altra mappa Non può succedere in nessun modo Provo Lo so Sì prova Vado Vai Ok Mi tuffo Uso il trampolino di proposito Vai tuffati Vediamo cosa succede Schermo nero Fere Io sono ancora in gioco Non mi dice Né che ho vinto Né che ho perso Fere Tecnicamente tu stai ancora in vita Nell'oscurità dell'acqua Ma ti vedo sott'acqua No Sto saltando Fere Prova a risaltare Magari esci fuori Fere Fere Non muori Ma neanche resti vita Rimani nel buio Per l'eternità Ma che tristezza Vabbè È come se vince il topo Perché così il topo Prende il cibo Suama i topolini E vince Quindi In questa mappa Il gatto deve stare Almeno un po' attento Interessante Perché se non ci esiste Tutto Senti un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare D'idea di iscrivervi Per non perdervi Di altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima